In casa Nardò piove sul bagnato. I Neretini, nell'ultimo turno di campionato, hanno perso in casa contro il Bitont risorto dopo sette giornate di digiuno. Ora la classifica vede i Granata ancora nei bassi fondi, a meno 5 della zona salvezza, con due gare da recuperare. Difficile che il Bisceglie possa sorpassare il Toro, condannandolo alla retrocessione diretta, ma sarà anche complicato sgattagliolare via dalla zona play-out. Come se non bastasse, nelle ultime ore si è tornati sulla sfida giocata ormai due mesi fa con il Gravina e gli aggiornamenti del caso non sono dei migliori. I disordini di quel post-partita continuano a fare notizia, questo perché il questore di Lecce ha combinato un secondo daspo dopo quello rifilato ad Alessio Antico, amministratore unico del club Granata. Questo secondo notificato di diffida disciplinare vede protagonista Salvatore Donadei, presidente onorario del club e presidente della Camera Civile Salentina. In altre parole, un volto più che noto nella zona. Nel referto della questura si parla di comportamenti pericolosi per l'ordine e per la sicurezza pubblica. Nel comunicato del giudice sportivo c'era anche altro. Espressioni offensive, tentato contatto verso un dirigente ospite ed oggetti lanciati dagli spalti verso la terna arbitrale. Ma facciamo un passo indietro e ricostruiamo quanto accaduto quel pomeriggio di domenica 13 febbraio. Il Nardò viene rimontato dal Gravina negli ultimi minuti di gara. Il match termina 3-2 per gli ospiti, che trovano i gol vittori allo scadere. Dopo il triplice fischio, una decina di persone riconducibili alla società invadono il campo, prendendo di mira direttore di gara e assistenti. In quella circostanza venne anche inibito per un mese il direttore generale Toma. Donadei viene accusato di essersi scagliato fisicamente e verbalmente con l'arbitro spintonandolo, mostrando in tutto questo anche resistenza a pubblico ufficiale, accusi analogo per Antico, che in più avrebbe aggredito l'allenatore in seconda del Gravina.